Porta avanti con l'esterno sinistro, non viene assolutamente toccato. Anzi è Duff che va volontariamente addosso a Fran che aveva cercato l'intervento di scivolato. Questa è una prova, potrebbe costituire prova televisiva per la simulazione di Duff. Aveva ragione il numero 3 spagnolo. Intanto Hart, c'è cascato Frisk dal dischetto e la parata di Casillas! C'è stata giustizia! Il sinistro poi sballato di Kilbane. Kian Hart intuisce Casillas in tuffo, poi Kilbane, lo specchio della porta davanti, sul fondo. Beh, devo dire calciato molto male questo rigore, abbastanza centrale. Bravo Casillas, nonostante tutto a rimanere fermo fino all'ultimo, riesce a respingere. E poi veramente clamoroso l'errore di Kilbane sotto porta, calcio con tutto esterno, del piede sinistro e la palla è fuori.